ciao bentornati vi ringrazio per l'iscrizione al canale youtube abbiamo visto un po di video sul rachero l'ultimo quello sul rachero fatto con tre dita anulare medio ed indice che abbiamo cominciato dal quarto fatto da quattro dita da cinque dita ma mezzogliebbe a cominciare da quello fatto da tre la cosa importante che abbiamo visto nel video precedente e quando si fanno i racheri o i rasgheadi di tenere le dita a cerchio e quindi cominciare ad ancorare le dita alla scafoide alla prima falange esterna del pollice invece che al palmo della mano perché col pugno chiuso non andrebbe bene diciamo che la scuola del flamenco vuole che il rasgheado vengano fatti con le dita a cerchio e quindi ancorare le dita alla falange del pollice alle fa la falange interna che si chiama scafoide o la prima falange esterna dunque oggi vi mostro un altro rasgheado che è fatto con due dita l'anulare l'anurale e l'indice allora anulare in giù indice in giù e indice in su come tutti i rasgheadi si può fare sia semplice cioè con le dita libere o ancorato e se ancori le dita le ancori in questo caso guarda diventa quasi sempre più 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 facile riferimento perché ancori l'anulare allo scafoide e l'indice alla prima falange esterna del pollice annulare indice indice annulare indice indice annulare indice indice il medio lo devi tenere disteso è più facile se il dito medio lo tiene disteso il rasgheado fatto con l'anulare e l'indice stiamo vedendo queste due dita annulare indice annulare indice in giù indice in su annulare indice in giù indice in su la sequenza non è sempre così dipende sia dallo stile che dalla metrica che devi fare ma ha poca importanza perché per fare l'esercizio annulare indice indice in giù indice in su va bene cominciando così si può cominciare anche dall'indice in su annulare in giù indice in giù e indice in su ora per esercitare questo rasgheado cioè fatto con due dita l'anulare e l'indice vediamo un pa' possiamo fare il solito compasso della sole a cioè col fa settima maggiore e il do maggiore fa settima maggiore e il mi maggiore e usiamo l'anulare l'indice e l'indice per fare una terzina di ottavi nel primo piede di ogni misura quindi uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, un, dos il golpe sul 9 è libero, non è una regola fissa che il golpe coincida con l'accento della cadenza metrica allora uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, un, dos allora l'importante che stiamo vedendo adesso è che io l'ho fatto con due dita l'anulare e l'indice e lo mettiamo nel primo piede di ogni misura e facciamo una terzina di ottavi anulare, indice in giù, indice in su e poi indice che penna, vocade, sul piede successivo uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, un, dos uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, un, dos uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, un, dos la mano sinistra usiamo quella che abbiamo, la sequenza degli accordi che abbiamo visto fino adesso tanto stiamo esercitando la destra allora l'anulare in giù, indice in giù e indice in su abbiamo visto una terzina di ottavi che puoi fare anche terzina di stincesimi, cioè ta 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 tre in tre in battere e tre in levare vi spiego, in questo caso abbiamo fatti ancorati li puoi fare tu sia ancorato che semplice come vuoi ancorato è più percussivo semplice e più difficile perché serve più in dipendenza delle dita quando le ancori hai un po' più controllo anulare in giù, indice in giù, indice in su usando il compasso che abbiamo visto fino adesso quindi con il fa settima maggiore, il do maggiore, il fa settima maggiore e il mi maggiore diciamo adesso è relativo perché tanto stiamo esercitando la mano destra quindi finora abbiamo visto il rasghevo rasgheato fatto con quattro dita con cinque dita, con tre dita nel video precedente e adesso con l'anulare e l'indice anulare in giù, indice in giù e indice in su ok? ti ringrazio per l'ascolto e la visualizzazione ti saluto, ciao! grazie a tutti!